adesso mio dio voglio ragionare alquanto qui in tua presenza con quelli che mi concedono come vere tutte quelle cose che la tua verità interiore mi dice quanti invece le negano abbaino pure quanto vogliono fino a stordirsi farò tutto quello che posso per calmarli ed aprire il loro cuore alla tua parola se però si rifiuteranno e mi respingeranno ti supplico mio dio tu non tacere allontanandoti da me parla nel mio cuore con verità tu solo puoi farlo ed io li lascerò fuori a soffiare nella polvere a gettarsi terra negli occhi ed entrerò nella mia stanza segreta per cantarti canti d'amore fra gli inenarrabili gemiti che durante il mio pellegrinaggio suscita il ricordo di gerusalemme nel cuore proteso in alto verso di lei gerusalemme la mia patria gerusalemme la mia madre e verso di te il suo sovrano il suo illuminatore il suo padre tutore sposo sua casta e forte gioia gioia autentica bene ineffabile tutto insomma perché unico e sommo bene che io non me ne allontani fino a che nella pace di quella madre carissima dove stanno le primizie del mio spirito da dove trago queste certezze mi raccolga così come sono da questa dispersione deforme per formarmi e riformarmi in eterno dio mio misericordia mia io dunque rispondo a quelli che pur non dichiarando false tutte queste cose anzi rispettando e ponendo come noi al vertice dell'autorità di seguire la tua santa scrittura divulgata per il tramite del santo musee tuttavia trovano qualche motivo di disaccordo e tu dio nostro si arbitro fra le mie confessioni e le loro obiezioni